Allora, non so come infilarmi qui dentro, perché comunque abbiamo una scheda di blogger conosciuti in tutta Italia, quindi facciamo una cosa, chiediamo quali sono i loro cinque libri preferiti. Vai, da Achille. Io entro in crisi ogni volta che mi chiedono i cinque libri preferiti, quindi ho scritto i primi cinque che mi vengono in mente, ho schiacciato invio e poi ho fatto no, no, no. I cinque libri che ho messo sono Un indovino mi disse di Tiziano Terzani, perché avrei voluto leggerlo a 15 anni e nessuno me l'ha regalato, Alta fedeltà ai Nick Corby, adesso non li ricorderò, L'Alef di Borges, Tutti i miei robot di Isaac Asimov, me ne manca uno e non me lo ricorderò mai come i Sette Nani. E non è incredibile, non me lo ricorderò mai, adesso passo e poi mi viene in mente e mi entrerò in campo. Dai, era quello! Sì, tu sai tutti i Sette Nani, ma non sai tutti i Jackson 5. Ecco, vedi. In compenso non mi ricordo tutti i miei libri. Era Orwell, era Orwell 1984. Allora, io Orwell non ce l'ho e non mi ricordo neanche io. No, allora, io Middlesex di Jeffrey Eugenides, Even Cowgirls Get the Blues di Tom Robbins. No, perso mi, aiuta, non me lo ricordo. Survivor di Chuck Polanick, La storia di Elsa Morante e Le relazioni pericolose di Piazzonello della Cruz. C'ho fatta, c'ho fatta, c'ho fatta. Ha vinto! Mi sono dotto, Eolo, no, allora, Cime Tempestose di Emily Bronte, un uomo di Oriana Fallaci, Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. Non me li ricorderò mai, me ne mancano addirittura due e sicuramente ci avrò messo... Chi? Brando? Non lo so, non me lo ricordo, però erano sicuramente dei bellissimi libri, lo scoprirete su Ball. Brava! Comunque è Eolo, Dotto, Pisolo, Mammolo, Cucciolo! Uno, non lo sai, ma non lo ricordo. Era Gongolo! Gongolo e... l'ho già detto, Pisolo. Piso le... Tanto questa verrà tagliata, perché... Facciamo finta, allora, facciamo finta che non è successo in te... Stiamo facendo finta che non è stato tagliato nessun pezzo, quindi è come se lei stesse continuando, giusto? Eh, non ti muovere è della Mazzantini, è l'ultima, non me lo ricordo comunque... No, no, ma abbiamo fatto tutto... Ma dai! Ma... Il montaggio sarà un casino! Andate su ball.it, così lo potete scoprire!